Storie di straordinaria umanità sono quelle raccontate nel corso della cerimonia di consegna del premio Alberto Sordi alla Solidarietà, organizzato dall'omonima fondazione istituita nel 1992 per volere del grande attore romano. Come da tradizione, nel giorno del compleanno dell'Albertone nazionale, la fondazione ha conferito una serie di premi a singoli individui, gruppi di volontariato, famiglie e figure professionali che si siano distinte per gesti di solidarietà nei confronti degli anziani. Ciro Intino, direttore della fondazione Alberto Sordi. Tradizionalmente abbiamo sempre conferito come fondazione il premio a uomini dello spettacolo che si sono particolarmente distinti in campo appunto della solidarietà in favore delle persone anziane e quest'anno invece saranno uomini dello spettacolo, rappresentanti del mondo dello spettacolo che consegnano il premio da noi conferito in favore di persone normali che vivono la loro esperienza di vita quotidiana, gruppi di persone, associazioni, ovvero anche professionisti che si sono particolarmente distinti con iniziative concrete di aiuto a persone anziane. Nel corso della serata uno dei momenti più toccanti è stato il ricordo di Fabrizio Frizzi, un sostenitore della fondazione e soprattutto un amico di Alberto Sordi, ancora Ciro Intino. Una menzione speciale e doverosa da parte nostra, doverosa perché Fabrizio Frizzi ci ha sempre aiutato, accompagnato nella conduzione proprio a lui che conduceva questi nostri eventi negli ultimi anni. Ricordo l'anno scorso conferimmo anche un premio al sindaco di Amatrice per l'evento del terremoto, è servito concretamente a finanziare le spese in favore dei terremotati di Amatrice. Ricordo una conferenza stampa con Fabrizio Frizzi, proprio in cui andammo ad Amatrice, ci recamo insieme per parlare delle attività della nostra fondazione in favore delle zone terremotate. Lui ci ha sempre aiutato, ci è sempre stato vicino, quest'anno non è più con noi. È un modo di rendergli grazie, di testimoniare la nostra gratitudine nei suoi confronti. Il premio alla memoria di Fabrizio Frizzi è stato ritirato dalla moglie Carlotta Mantovan e dal fratello Fabio, direttore d'orchestra e compositore. Diciamo che Albertone è stato un grande amico di famiglia, l'amicizia è partita dal nostro padre Fulvio, che era un uomo di cinema forte e con il quale Alberto aveva un rapporto frequentissimo, sono nati tanti film, cito un borghese piccolo piccolo, è nato a casa nostra. E quindi quando si è andato Albertone è stata una perdita anche proprio a livello affettivo, Fabrizio aveva un grande potenziale di comunicazione ed è stato felice di metterlo da subito al servizio di questa bella realtà. E quindi oggi siamo un po' qui per ricordarlo, c'è anche sua moglie Carlotta, Fabrizio è uno che ha dato, credo, tanto affetto a tante persone, a tante realtà. E questa forse è una di quelle alle quali teneva di più.